E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina torna il nostro consueto Mordi with Crypto l'appuntamento che ci accompagna da lunedì a venerdì con i principali indizi di mercato con quello che è successo la notte andremo a vedere cosa sta accadendo anche alle board Apes, l'NFT diciamo più importante tra virgolette no passatemi il termine più popolare soprattutto tra i VIP passatemela così perché è sotto indagini e andremo a vedere insomma un sacco di altre cose ma come stiamo prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti forse di vostro interesse e di vostro gradimento mi aiuta tanto col canale e se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi con il clic sulla campanellina prima di essere sempre aggiornati insomma sapete quanto sia importante essere sul pezzo soprattutto nelle fasi di mercatori bassiste a rialzo va bene tutto ma è questi momenti che è importante rimanere sul pezzo detto ciò non prendiamo altro tempo e partiamo partiamo dalla prima situazione quella di Ethereum perché in realtà nella scorsa settimana si è registrata per la prima volta questa famosa tokenomics deflazionaria cioè per la prima volta Ethereum dopo il merge è diventato deflazionario nella sua supply infatti è andato negli ultimi sette giorni a perdere se non erro uno 0,12% di supply questo perché? perché banalmente siamo andati ad avere degli eventi tali per cui ci hanno portato ad avere un aumento del gas fee ok quindi del G-Way che ci ha portato appunto a essere avere degli spike compresi tra 20 e 30 G-Way quello che ci tengo sempre a sottolinearvi è che in una fase di bear market questi 20-30 sono alti ma nelle fasi di bull market io mi ricordo benissimo Ethereum con addirittura spike a 200 ok il che apportava a dei burn in questo caso veramente molto 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 più elevati ma in ogni caso perché siamo andati a fare questo ad avere questo comportamento da parte del G-Way perché siamo andati ad avere un G-Way un po' più elevato del normale perché in realtà dipende da questo Xen che in realtà anche in questo articolo ne parlano sembrerebbe un po' un progetto mezzo ponzi scheme quindi non sicuramente qualcosa da cui buttarci l'attenzione quindi questo minting selvaggio di questo token ha portato insomma ad avere questo burn in ogni caso ovviamente non andate a guardare adesso cosa sia Xen eccetera ve lo lasciate perdere perché probabilmente siete gli ultimi ad arrivare in questa fase e non credo vi convenga ma ripeto poi fate come volete non sono consigli di investimento dei finanziari ma in ogni caso appunto era utile più che altro per capire se effettivamente questa famosa tokenomics deflazionare o meglio queste situazioni di contrazione della supply di Ethereum potessero meno avvenire in realtà negli ultimi 7 giorni è avvenuta andiamo insomma un po' al piatto forte quello della SEC perché la SEC non si ferma la SEC vuole aggredire praticamente qualsiasi cosa sia crypto infatti in questo caso sta andando a investigare su quelle che sono le sale sia degli NFT delle Bored Apes che del token Apecoin infatti abbiamo visto anche ieri una contrazione di circa 10% sul token proprio perché in realtà la SEC sta andando come vi dicevo a indagare su un'eventuale come sempre vendita non autorizzata di security quindi una distribuzione di fondamentalmente di titoli all'interno della comunità senza avere autorizzazioni per farlo ricordiamo appunto ricordo anche qua che la collezione dei Bored Ape che ora vale centinaia di migliaia di dollari in realtà era stata venduta con un initial offering banalmente di minting di queste scime a 190 dollari ok a prezzi di Ethereum dopodiché poi abbiamo visto gli spin off come le Mutant E3 Hot Club l'Otherside che è un metaverso eccetera insomma che ora sono quotati veramente billion quindi staremo a vedere il mio sempre parere in merito è che da SEC dovrebbe cercare un pochino di capire che non può fare qualsiasi cosa ormai non sia bitcoin tra virgolette perché anche bitcoin secondo me sì e no ma di base bitcoin non gli conviene in questa fase siano security ok non è tutto security e quindi cerca un po' di regolamentare a modo suo non avendo poi potere per farlo perché lei semplicemente va a investigare cerca di capire ma poi effettivamente si può sempre fare pello insomma la SEC non è che legifera in merito ma appunto abbiamo visto anche con Ethereum dicendo ok Ethereum i validatori sono da me e quindi potenzialmente se i validatori sono in America e sotto gestione americana lo può fare con bitcoin lo può fare capite bene che diventa un discorso pericoloso che non è solo legato in questo caso del Bored Ape ma è una cosa complessiva ok interessante e siccome da tenere monitorato invece per finire HUSD che è la stablecoin in realtà legata a Wobi ma non è proprio legata a Wobi di base cioè sì perché è la stablecoin fondamentalmente dell'exchange ma è gestita da una società di Hong Kong Stable Universal che poi è ovviamente andata a essere comunque praticamente quasi acquisita da Wobi insomma in partnership molto stretta ma ha visto ieri un Depeg a 0,90 proprio perché in realtà Wobi stesso ha delistato 21 coppie di trading con HUSD questo perché chiaramente essendo in un bear market essendo con bassa liquidità a mio parere si andava ad avere delle fluttuazioni, degli spike molto poco congrui a quelle che sono le quotazioni poi con le altre stablecoin con altre coppie e quindi di base si è andati a delistarle e questo ha portato addirittura uno spike a 0,90 poi attualmente sta andando leggermente a recuperare ma il discorso vi fa capire anche come la liquidità a mio parere sia centrica proprio in questa fase per il motivo in cui senza liquidità i rischi soprattutto su queste stablecoin più piccoline perché sono capitalizzate due o tre cento milioni di dollari massimo rischiano veramente di poter fare danni e fa spaventare soprattutto chi le detiene perché se non sapete perché si Depega diventa poi problematico da gestire prima di finire di passare volevo ricordarvi che questa sera non ci sarà Schillers alle 21 perché per ovvi motivi io sono in Italia ma Marco è ad Amsterdam insomma era un po' complicato organizzare e anche alcuni ospiti non erano disponibili per questo motivo quindi di base andremo direttamente settimana prossima non vi svelo nulla nei prossimi giorni vi darò l'ospite però molto interessante appunto perché parleremo di cose molto sempre molto utili e molto in voga detto questo passiamo appunto ai nostri gamers delle 24 ore troviamo Wobby Token che fa un più 27% Terra Classic che fa un più 6 Eldra un più 8 Convex un più 3 Illium un più 2 ma a parte Wobby in realtà che non ho capito bene cosa abbiano annunciato sinceramente non abbiamo granché tra i losers troviamo Apecoin come vi dicevo che ha fatto un meno 7 87 Stellar un meno 6 Uniswap un meno 4 Clayton un meno 3 Cosmos un meno 2 Diclid un meno 2 e poi praticamente il nulla ma perché non abbiamo tutta questa divisione proprio per il fatto che se andate a vedere la candela di ieri di Bitcoin è stata una doji banalmente siamo andati a avere un'escursione tra i 19,270 con un minimo a 18,5 e questo ha portato che il prezzo fosse insomma abbastanza compresso e siamo andati a tenere vedete una chiusura al di sotto del nostro supporto sui 19,046 non ci siamo ancora avvicinati al nostro box di liquidità che ci ha spinto poi ricordiamoci fino a i 20,005 ma rimaniamo molto flat ed sono proprio questi momenti come vi dicevo molto più pericolosi in senso anche buono ma molto dove bisogna cercare di costruire le proprie posizioni se si vuole credere in questo settore anche perché sono i momenti in cui l'attenzione soprattutto dei retail e della stampa e di tutti quanti tende a scendere ok quelli che vedete che magari parlavano spesso di tutto ciò in questo periodo non ve ne parlano più proprio perché scende l'attenzione e vi ricordo sono i momenti migliori se volete non entrare e buttare soldi a caso ma se volete informarvi cercare di capire effettivamente cercare di costruire qualcosa questa è sempre la mia idea poi non è un consiglio finanziario non è un consiglio scusate di investimento ma insomma tant'è ok per quello che riguarda voglio farvi vedere oggi il DXY perché è molto forte era corretto tanto 110 è tornato sui 113 e quindi in realtà abbiamo visto comunque molta potenza da parte del dollaro che viene confermata anche nei cambi valutari di forex che non mi interessano in questa fase però vi fa comprendere come effettivamente siamo ancora in un periodo molto forte per il dollaro che va comunque contro gli asset riscon come potenzialmente bitcoin e le cripto dominance che rimane su 41,4 e total che viene confermata 883 billion niente di più niente di meno detto questo ragazzi io mi fermo spero davvero che questo contenuto sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento se così vi invito a lasciare un'altra mi piace e iscrivervi al canale col click sulla campanellina prima di essere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao a tutti ragazzi